Le coppie semifinaliste della 14-15 anni classe A a più tardi per la vostra... A più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra. A più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra. A più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra, a più tardi per la vostra. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.